Il mio nome è Francesco D'Amosto Il mio nome è Venetiano, mia famiglia ha vivuto qui più di 1.000 anni, venice è in mio sangue Non è un accidente che la rivoluzione in l'art è arrivata al stesso tempo come la democrazia In 1801, il suo signore Elgin ha preso molto della scultura da Pathanon per mantenere la sicurezza Mimar Sinan era il grande architetto del tempo, e questo è il misterio Il mio nome è Venetiano, anche le donne polizzeri sono stati I heels. Mamma mia. Wow! These places are far more than tombs. They're temples. Questa figura di Cristo è 30 metri sotto l'acqua. Sempre di tempo, di tempo! Questa città di Medusa è tornato a romanzo. Barocque ha dominato il XVII secolo. Significa molte cose, ma se c'è una parola che definisce il movimento, e il movimento. All' questo, mi fa sentire un forerino in mio compagno. Ho trovato questa tomba scoperta, la delicata belle bellezza di Ilias' face. Tutti di qua. È difficile da filmare dentro, ma infatti, la Villa Rotonda è appena a un amico di mio padre. Grazie a tutti.